Antares Vision è leader mondiale nella tracciatura del farmaco cosiddetto track and trace oggi anche in nuovi settori come food and beverage la cosmetica il medicale e il fashion inoltre è leader nella computer vision che è la mission dell'azienda fin dalla sua fondazione abbinato lo smart data management i nostri percorsi di ricerca sono vari e orientati all'innovazione questo perché le sfide dei mercati ci richiedono competenze sempre più spinte lavoriamo per aggiungere un mix di conoscenza con un approccio multidisciplinare tenendo sempre presente che qualsiasi sviluppo deve essere un prodotto sia hardware o software facile da usare conveniente e utile